segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quello che vogliamo approfondire oggi è la visita di matteo zuppi inviato di papa francesco a mosca questa volta dopo essere andato a kiev oggi sarà a mosca allora qual è il senso anche se abbiamo appreso proprio da repubblica lo dice con certezza qualche giornale lascia ancora margine all'ipotesi che forse potrà vedere putin ma sembra che in realtà vedrà solo il patriarca kirill mario giro vedrà il patriarca kirill e delle autorità russe ancora non è chiaro chi e forse lavrov comunque qualcuno vedrà che non è chiril si immagina naturalmente adesso voi potete come potete immaginare a mosca le misure di sicurezza sono draconiane dopo quello che è successo però il cardinale ha voluto mantenere la sua visita anche perché è lo spirito della missione che per cui il papa lo manda cioè aprì con tenere canali aperti e cercare gesti di umanità nel caso specifico si parla dei bambini si parla dei prigionieri e anche del grano perché il 18 luglio scade l'accordo e voi sapete tutti quanto il cardinal zuppi sia sensibile a quello che succede in africa che è molto preoccupata per se l'accordo scade perché naturalmente i prezzi del pane eccetera eccetera e questo dalla dimensione di di questo questo atteggiamento di ascolto e di incontro per tenere canali aperti in una situazione in cui non nessuno di due parti non si parlano neanche per interposte persone vado da maurizio molinari perché